Musica Vitetti Presidente, lo noce non parla più, cos'è successo? Quale è in carico dalla regione? Eh? Cosa succede? Michele Emiliano, sindaco di Taranto, lo noce non parla più, lo noce non parla più, lo noce non parla più. Ma dobbiamo andare avanti così fino alla fine della legislatura? Vitetti, auguri, però sarebbe stato fortuno prima chiarire la vicenda giudiziaria e poi essere eletto, fermo restando il principio di non colpevolezza. Auguri. Il primo intervento del Concilio Comunale. Grazie. Certo, anch'io mi alzo. Oh! Mi devo genuflettere? Mi devo genuflettere? Sono in ginocchio da lei, Vitetti. Capisco che il Consiglio da parte non ha studiato il regolamento sul funzionamento del Consiglio. Non c'è bisogno, sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode, specializzato in diritto amministrativo e studenti locali. Presidente, io in estrema educazione le ho fatto una domanda. Una domanda le ho fatto, va bene, grazie, mi sono prenotato.